Pace e bene a tutti. Oggi, 13 agosto, ricordiamo Sant'Ippolito e Ponziano martiri. Ascoltiamo. La vita di Ippolito è drammaticamente legata a un altro santo martire, Ponziano. Quest'ultimo sedeva sul soglio di Pietro, essendo succeduto a Urbano nel 230, mentre la comunità cristiana godeva di un periodo di relativa tranquillità. Era imperatore Alessandro Severo. La chiesa viveva con gioia la ritrovata pace, quando un coltissimo prete, Ippolito, dalla morale molto dura, cominciò ad accusare Papa Ponziano di troppa indulgenza, di troppa tolleranza. E un giorno alle accuse fece succedere un'aperta ribellione, che pur essendo ispirata da zelo eccessivo, lo proclamava antipapa, pesando nel cuore della cristianità. Ma ci pensò il nuovo imperatore, Massimino, a dirimere la questione. Per lui, Papa e antipapa erano ambedue nemici dell'impero, ed esiliò entrambi nelle miniere di Sardegna. Ponziano, più mite e umile di Ippolito, per non lasciare la chiesa senza guida, rinunziò subito al pontificato in favore del greco antero. Il suo gesto fu presto seguito dallo stesso Ippolito, che capito l'errore sciolse la sua chiesa, invitando i fedeli a riunirsi alla vera comunità cristiana. Di lì a poco tempo, Ponziano e Ippolito, finalmente pacificati, subivano la medesima sorte, morendo in seguito alle sofferenze patite nelle miniere di sale. Quella di Ippolito e Ponziano è veramente una storia particolare, una storia di due nemici. Ponziano Papa è considerato da Ippolito un nemico, perché? Perché secondo la sua visione, un po' rigida dal punto di vista morale, appunto Ponziano è un Papa un po' troppo permissivo, un Papa che non imponeva la disciplina nel modo giusto. Tant'è che nasce proprio un aperto conflitto, una guerra, un episodio brutto se consideriamo il fatto che tra fratelli nella fede dovrebbe vincere sempre la pace. Cosa accade però? Che l'imperatore di quel tempo esilia entrambi, considerandoli appunto entrambi nemici dello Stato. E qui poi avviene un cambiamento. Entrambi poi si ritroveranno al fianco, rappacificati appunto nella comunione del martirio. Cosa ci insegna questa storia? Che a volte anche noi siamo veramente portati a mettere in piedi grandi conflitti, considerando un'altra persona come nemica e poi in realtà tutto, quando poi vediamo le questioni con un po' di distanza, diventa veramente piccolo e tutti quanti riusciamo a ritrovare quello che è il centro, quello che è Gesù Cristo, che ci vuole sempre rappacificati, comunque sempre lontani da quelle emozioni che sono quelle della rabbia e dell'odio che ci fanno prendere le scelte sbagliate. Appunto ci ispirino questi due santi a risolvere i conflitti che stiamo vivendo in questo momento. Perché? Perché i conflitti ci logorano e logorano gli altri. Allora ci affidiamo alla loro potentissima intercessione. Sant'Ippolito e Ponziano, pregate per noi. filmato c'è Grazie.